Anche lui è un appassionato, guarda una grande passione, lì c'è passione Ecco, è arrivata una fanciulla, adesso li fermano ben loro, abbiamo i forzuti della giuria che li fermano e li tengono fermi in modo che adesso il presidente prende in mano la sua bandiera e siamo bene di fare, non è male, dai Ricordiamo ancora l'ordine, vicino allo steccato, Rachele, finalista dell'anno scorso, attenzione Scuderia Martini, Sissi in seconda posizione, Scuderia per sempre Lillityu a stanno decimo, terza posizione, Lisa, sempre Scuderia Persello con Davide, quarta posizione Quindi papà e figlio, sono papà e figlio che corrono, Davide e Vanni E Vanni, esatto E in ultima posizione la prima donna in grado Eccola, oggi abbiamo una... Linda, un applauso per Linda Benvenuta carissima, mi pare un grintosa C'è una grintosa, non è... è una che si ha fatto su Viva lo scherzo oggi con Linda No, no, veramente, veramente Linda si ha fatto su Sì, sì Brava Siamo quasi pronti? Sì, sì Quasi pronti Banca Lisa sulla linea Scalpitano, scalpitano Rachele Rachele scalpita Attenzione Attenzione, presidente alzato Attenzione Viva partiti Partiti Lilli Tio Lilli Tio Linda Linda sull'esterno Ma perde, perde terreno Lilli Tio Lilli Tio alzato decimo Lilli Tio alzato decimo davanti Sull'esterno ci prova Ci prova Davide con Lisa Ancora, ancora viva sull'esterno È una lotta a tre Adesso è una lotta a tre Gli altri due sono un po' Sono un po' dietro Mezzo giro di ritardo quasi Rachele recupera un po' Ancora Davide davanti con Lisa Ancora Davide Scopro Scopro nella scuderia Andiamo Amore, l'amore anche sulla pista Linda, Linda Seconda posizione Sta prendendo Sta prendendo Sta prendendo Passi sull'esterno Attenzione Che Lisa Tra l'altra Rachele recupera Ultimo giro Ultimo giro Forza Gli ultimi energie Forza Vanni sta recuperando Ancora Rachele In seconda posizione Rachele in terza Viva 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 E vince Scuderia Per sello Lisa Con Davide Seconda posizione Per Viva Condotta da Linda Bene Direi bene Veramente Adesso aspettiamo Il risponso ufficiale Dei nostri Tecnici Che hanno Sovrainteso Proprio Ogni fase Ecco Molto bene Riporto le posizioni Però Ci può essere qualche errore Adesso noi Sentiamo la comunicazione Ufficiale Che ci farà Tiziano Conferma Conferma 17 Lisa 18 Viva Vanno in semifinale